Dobbiamo essere responsabili perché abbiamo cinque partite davanti, cinque opportunità per portare ogni volta a casa tre punti e cinque opportunità per chiudere la pratica per il raggiungimento del nostro obiettivo che è il mantenimento della categoria. Quindi siamo indirizzati secondo me sulla strada giusta ma bisogna sempre tenere ben chiaro questo tipo di atteggiamento mentale prima di tutto perché se hai questo tipo di atteggiamento poi le gambe, i risultati come avrete visto vanno di conseguenza, come logica conseguenza. Però questo è quello che noi dobbiamo premere tutti i giorni qui al nostro campo di allenamento e per poi portarlo alla domenica. Ci dobbiamo ricordare l'entusiasmo e la felicità che abbiamo avuto nel rientrare nello spogliatoio sia dopo Fermo che dopo Pescara anzi addirittura dopo Pescara eravamo talmente convinti di poter anche perché anche secondo tempo noi abbiamo avuto delle occasioni per andare in vantaggio rispetto al Pescara e quindi dipende da noi. Se noi entriamo con quel tipo di atteggiamento, con quella mentalità, anche con questo forte desiderio e voglia di rimanere con la porta inviolata, avete visto anche Mordini, il recupero che ha fatto, la parata di Peruchini, l'entusiasmo che c'è che abbiamo quando un compagno chiude un'azione che ti aiuta. Questo secondo me è la base di partenza su cui noi dobbiamo ripartire sempre. Da qua le prossime cinque partite ne abbiamo affrontate due, l'abbiamo fatta molto bene, ora abbiamo la terza e così via, ma con questo tipo di atteggiamento sicuramente porteremo a casa punti. Quindi dobbiamo premere su questo obiettivo, su questo atteggiamento. Ma io sono molto contento e orgoglioso di aver scelto di rimanere. Sì, ci sono state delle possibilità per andare via, come avete letto, come sapete benissimo. Anche se la mia volontà era già stata espressa al direttore, al mister, fin dall'inizio, di voler rimanere. Perché comunque, come avevo già detto in precedenza, a dicembre, quando ci siamo compattati, confrontati, avevamo preso anche delle posizioni importanti. Quindi non sono quel tipo di persona che dice le cose e poi abbandona magari una barca. Anzi, mi piace affrontare le sfide più difficili e poter uscirne a testa alta insieme a tutti i miei compagni di squadra. Grazie a tutti.